Ehi, è caduta la scenografia, te ne ho! Ma che disordine che hanno lasciato i figli di... Come va, Federica? Come va, Federica? Come va? Ragguagliami, ragguagliami, ecco, 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 ecco. Bene, bene, si scopa. Ma... Ma qual è il motto? Il motto? Perché il mio marito non è in forma, è solo... E usa anche lo squacquero, usa lo squacquero! Federica, usa lo squacquero! Ma sei presto, pideole? E che ci vedo benissimo, sono in cachet, ma ne ho! Oh, si sente la malpensa da qua! Ehi, beh, interessante! Ascolta! Cosa mi racconta? Federica, cosa mi racconta? Federica, cosa mi racconta? Eh, se mi fai parlare, te ne ho, eh! Sono stato al teatro! Sono stato al teatro! Federica, sono stato al teatro! Sono qua mezzo medico, saurli, scema! Sono imbarbita! Sono stato al teatro vedere i fichidini! Oh, i fichidini! Ah, che bravi! Faccia vedere i fichidini! Sì, sì, certo che è uno dei due! Mamma mia, poverino, è proprio brutto, eh! È una bella gara, eh! Perché uno ha fatto un incidente e scusato, ma l'altro è nato così! Ha detto così! Eh, lascia stare! Non lo sapevo! Eh, no, non lo sapevo! Eh, no, così è così! Cosa si fa? Pensa che ho letto su novella lì, quindi... Mi hanno detto, ho letto sul giornale... Sì, ho capito! Che la moglie di quello brutto, eh! Se la intende con quello bello! Ma pensa! Ho perso quel numero! Guarda! In te c'è la fidanzata di lui? Sì! Dell'altro? Ah! C'è la fidanzata? Sì, sì! Non lo sapevo! Ha fatto il presepe vivente a Novara! Mu! Vabbè a me! Vedi che fa del bello! Sì, faceva la grotta, però! Ah, eh, eh! Ha detto una mano! Sono entrati i remati, non si sono più visti! Ma cosa mi stai narrando? Ma han detto così, ma han detto! Ma cosa mi stai narrando? Lascia stare! Ma cosa mi stai narrando? Ma cosa mi stai narrando? E via via discorrendo, e via via discorrendo! Pensa! C'è del leone, te o dell'acqua? No! No, 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 sono dei gemelli, ascendente camicio! Dì! Pensa che han fatto un'inchiesta! Sono a Lombardia, scusami, dimmi! Speriamo che la Liguria non vada in fiamme lì davanti! Perché han fatto un'inchiesta? Han fatto un'inchiesta! Han scoperto che il 60% delle donne non si sposa più! Come mai? Perché dicono che per un po' di salsiccia non prendono tutto il maiale! Certo, fatto bene! Fatto bene! Fatto bene! Fatto bene! Fatto bene sì! Fatto bene sì! Quello dito lì mi ha detto da un'altra parte! Ma io non è fodero! Sono andato dal dietologo e mi ha detto Ma guarda, può mangiare di tutto! Basta che non lo ingoia giù! Che fortuna! Eh, si capisce? Stanozzi ho visto un trille! Vabbè, mio marito quasi toglieva le mutanze! Aspetta, che esperienza! Si è fatto bene, fatto bene, fatto bene! Scusa! Scusa Federica! Oh, mi ha chiuso, lo sapevo! Ah, che botta! Ma io non volevo! Te sei mio per preside! Ma sto stato lì... Eh, vabbè, tanto sei l'aride! Hai capito te, né? Vieni a discorre, è una massa di... È una massa di... È una massa di... È bello parlare con te, non sei neanche tanto ripetitiva! Mia figlia fa un film! Oddio, che ruolo ha? Fa un film con Rex! Ma va! Sì, sì, fa la ciotola! Così finalmente qualcuno la lecca, finalmente! Era ora! Cioè, è una bella fortuna questa! Era la mia vicina di casa! Poverina, poverina! È stata male! Ma va! Le hanno messo la maschera ossigenata, è diventata bionda! Ma guardate! Oggi ho cucinato la lingua, ma ho pulito anche la padella comoda! Allora, cos'è il miracolo? Federico, cos'è il miracolo? Ciao, contassi! Ah, che è caduto il pippo! Mascotto, ma al suicidio! Non ne hai mai pensato! Ho provato con la chigliottina, ma non sono tagliato! E te? Che bella pelle che c'hai! Le metto un pesce tritato, proprio fine fine, e me lo spalmo sulla faccia! Che pesce? La balena! Ah, la balena! Oh, guarda Federica! Che periodo! Mia figlia è andata a cavallo! Aspetta che ho mangiato un appio, l'ha perduta! Mia figlia, stavo dicendo! Era in giro con la spider! Sì! Scapottata! Allora era lì al semaforo così che aspettava, così! Era rosso, l'era lì così! A un certo punto! Dietro c'era una carrozza col cavallo! PAM! Colpo di frusto! No, pensate! Mi sa che botta! Adesso gli hanno dato il collare, poi gli danno la cuccia, tre o quattro crocantini, per mia cosa! Eh, vabbè, insomma! Che storia! Eh, si capisce? Si capisce? Eh, si capisce? Ma tu abiti vicino lo zoo oppure? Perché? Ah, così pensavo che... Ti trovi bene? Niccoli tra l'iccoli! Ah, se lo bevo digerisco, sì! Comunque, insomma... È un bel periodo! Eh, si capisce? Guarda, adesso si va al mare! Eh, fra un po' si va al mare! Io vado sulla ringhiera lì! Ah, speriamo che manchi un pezzo così cadi giù qua! Sono contento! No, adesso devo solamente finire perché mia figlia mette una dissenteria in casa quando entro! Eh, vabbè, insomma! Senti, a proposito! Ti saluta la Terry? Ah, sì, lo so! Ha avuto un figlio? Mamà? Sì, 12 chili, pensa! Cos'è, un manzo? Cos'è? Aspetta! Incredibile, né? Cos'è? Cosa fa? Bella o... Vabbè, vabbè, vabbè! Insomma, comunque... Vabbè, vabbè, Federica Scappo che ti ho su una montagna di roba da stirare! Ascolta, devo giocare all'otto se sogni qualcosa, dimmelo che lo traduco in numero! Adesso devo stirare però quando gioco... A proposito, Nolan, quando è stato? Ieri no! L'altro ieri! Prima dell'altro ieri! Harry Potter, portami via! Ti ho sognato! Sì? Sì! E cos'è sognato? Che i sogni sono promonti! Ci credo, sì! Eri tutta marrone! Poi ho girato l'acqua e non c'eri più! Ma che sogno strano, Federica, che ho fatto, guarda! Ma... Anch'io ti ho sognato! Eri, Federica, hai sognato! Eravano due statue! Che meraviglia! Una di cioccolata e una di cacca! Ma quella di cacca eri tu? Federica... Eri, Federica, hai sognato!